Primo incontro politico istituzionale per il sindaco di Dragoni Antonella D'Aloia che ieri ha ricevuto al comune la senatrice Leonardo accompagnata dal sindaco di Benevento Clemente Mastella che hanno espresso alla fascia tricolore le loro congratulazioni per il risultato raggiunto e augurandole buon lavoro. Poi si sono intrattenuti discutendo delle varie problematiche che assillano un po' tutti i comuni iniziando dalla forte carenza di personale. Telegrafica a termine dell'incontro è stata la sindaca D'Aloia. Stasera abbiamo incontrato l'onorevole Mastella e la senatrice Leonardo. Sono venuti qui da noi in comune farci gli auguri per il nuovo insediamento. Siamo stati felici di incontrarli e anche di ascoltare i consigli che l'onorevole ci ha dato. vista la difficoltà che stiamo affrontando in questi giorni. Nell'occasione abbiamo anche sentito per due rapide battute l'ex guardasigilli Clemente Mastella del perché della sua visita a Dragoni, del suo progetto e dell'attuale momento politico in Italia. Devo dire che io sostengo l'idea del Molisannio e con partecipazione nazionaria di grande presenza anche di questa fascia dell'Alifano e quindi anche un modo per incontrare e scambiare opinioni. Dopodiché tra sindaci mi pare giusto sollecitare, valutare, operare in cognizione e tentare anche di dare risposta ai nostri territori. Lei sta portando avanti un progetto politico, mi pare, suo. Che cosa ci può dire e a che punto è? Ma guardi, quando tutti arrancavano su questo versante che è quello di dare il centro come tale, tenendolo fuori posto, fuori luogo, per questa competizione esasperata che c'è tra destra e sinistra per cui era complicato per la meccanica elettorale mettere in piedi il centro, vedo che oggi invece anche con la divisione di 5 Stelle e con una fungibilità di presenze le più varie e più disparate l'Ari Centro può ingrossarsi ed esserci, a condizione solo che vengono eliminate alcuni egoismi, alcune vanità personali, anche perché c'è stato il fallimento prima dei 5 Stelle, poi della Lega, quindi di qua il disappunto delle persone che incoraggiano una visione un po' diversa, non tanto nostalgia, ma una visione un po' diversa e questa visione diversa può essere rappresentata dal centro come tale. Della scissione di 5 Stelle di Di Maio, cosa pensa? Ma guardi, quando non ti trovi bene evidentemente sei portato a separarti, in questo caso la separazione è arrivata secondo me con un po' di ritardo, cioè nel senso che come di cui stavano lo stesso letto e facevano sogni diversi e quindi prima o poi si cade dal letto, qualcuno cade e quindi qualcuno è capito prima, qualcuno dopo. Ora dove arrivano gli uni e gli altri non lo so, la mia idea è che bisogna, portare avanti l'idea dell'ulivo come tale, cioè il senso sinistra in Italia vuole vincere e fare l'ulivo e all'interno dell'ulivo deve spiccare invece il tratto fondamentale come quello che fu recuperato da me, da Prodi, da Marini e da Dini con la Margherita, cioè occorre una Margherita 4.0, occorre un nuovo ulivo senza il quale evidentemente non si vince e vincerà un centrodestra sgangherato che avrà un collaudo difficile in Europa per la pesantezza di atteggiamenti della Meloni, anche le dichiarazioni che ha fatto l'ascendamento in Spagna, lasciano molto perplessi alle diplomazie internazionali, soprattutto a quelle europee e a quelle occidentali americane, quindi questo crea un po' di disagio secondo me, però voglio dire la democrazia è una democrazia, ma rispettata e quindi vinca chi vinca, però se il centrodestra vuole vincere devo utilizzare tutti gli elementi che sono fondamentali per il centro, anche oggi vuole l'ulivo, io stavo sulle scatole magari a quelle di sinistra, Bertinotti stava sulle scatole a quelle di centro, ma senza me Bertinotti l'ulivo non c'era, non vinceva.